Marco Marchio, Associazione Amici della Montagna di Assisi, Associazione Sportiva Paolo VI di Castano I, Associazione Piccoli Fratelli di Modica, Associazione Italiana Non Vedenti e Ipovedenti di Como e Monza, Associazione Sportiva Virtus Vesuvio di Torre del Greco, Associazione Arcobaleno di Manfredonia, Associazione Genitori e Volontari per la Tertrella delle Persone Diversamente Abili di Pomigliano d'Arco, Associazione Lunigianesi Disabili, Associazione L'Affrodo di Polignano Amare, Associazione Oncologica Volontariato Alta Marecchia, Associazione Trapiantati Organi di Puglia, Associazione Nazionale Signore Scenetici di Vali, Associazione di Volontariato Altuvaleno di Alta Vilda Milicia, Associazione Naicale Missionari Catechisti del Sacro Cuore di Marcianise, Associazione di Volontariato Pro Rendita di Bacconi, Associazione Catechisti del Sacro Cuore di Marcianese,